musica 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 in stazione dovete scendere 50 minuti musica 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 Allora, siamo arrivati a Palermo e volevamo andare a bere il caffè, mangiare il cannolo nel bar che ricordavo io, quando sono venuta l'ultima volta, ma era chiuso. Allora abbiamo cominciato a camminare, abbiamo incrociato due o tre persone che ci raccomandavano dei locali, l'uno è diverso dall'altro, quindi alla fine abbiamo scelto noi e adesso siamo in attesa di mangiare i cannoli, che ce li fanno al momento, cannoli express si chiamano. Possiamo sticcare solo di qua, ho mangiato una brioche, una ricotta, e nessuno ha mangiato. Allora, Noi! Dai, dai, dai! Ciao, ciao, ciao! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sono Maurizio, sono marito di Danila. Ciao, sono Felicità e sono la moglie di questo qua. Abbiamo mangiato qui da Umberto a Ballarò dei piatti specialissimi. Io ho mangiato il calamaro ripieno, mio marito le sarde, in più la pasta alle sarde, e ho bevuto un po' di birra e un po' di vino, adesso per quello parlo molto locoacemente. Mi ero riproposto di mangiare un calamaro ripieno, mi sono mangiato un arancino. La caponata, il mio calamaro ripieno. Purtroppo non c'è più niente, insomma, mi mangiamo. Erano molto bene, molto buoni gli spaghetti alle sarde. Mi mangerei un altro piatto, ma c'ho la moglie a fianco che mi è infedice. Mangiato bene, compagnia, sarde. Spaghetti alle vongole, calamaro ripieno. Sono contenta di questa bellissima giornata e mi sto molto divertendo. Ciao a tutti. Dalla caponata, piatto piccolo, e cos'è che ho preso gli involtini di pesce spada con i pomodori e ho mangiato un pochino di arancino. Qui il pranzo è stato ottimo. Io ho bevuto la copri sarde. Qua al mercato Ballarò è la seconda volta che ci vengo e l'ho mangiato benissimo. Capponata e pasta con le sarde è da consigliare a tutti, anche più schiziosi. È veramente un bel luogo, è vitale. Mi è piaciuto tantissimo. Una frittura mista eccezionale e degli spaghetti con le sarde. 5 stelle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.